Cauto ottimismo nella risoluzione dell'avvertenza che coinvolge 84 lavoratori della Yokohama di Ortona, secondo le ultime novità riferite dall'assessore regionale allo sviluppo economico Mauro Febbo, sono tre le trattative di vendita in corso, una è già in fase avanzata. Nel corso della precedente riunione, ricorda Febbo, avevo ricevuto il mandato per allacciare i contatti tra il management della Yokohama e la proprietà della potenziale acquirente, raggiunto appieno l'obiettivo. Il curatore fallimentare dello stabilimento ortonese, Fabrizio Saveriano, ha ricevuto l'ok dal vicepresidente Yokohama Europa, Tetsuya Tamaki, per trattare la vendita ad eccezione della proprietà intellettuale. Ora, prosegue l'assessore, ci sarà l'interlocuzione tra i ministeri interessati e la potenziale acquirente per vagliare le possibilità di accesso alle forme di aiuto disponibili affinché l'azienda possa avviare quella che per la stessa rappresenta una nuova linea produttiva salvaguardando i livelli occupazionali. Venerdì prossimo Febbo si relazionerà di nuovo con i sottosegretari dei ministeri competenti e l'avvocato della Yokohama per tutelare al meglio i lavoratori interessati ed evitare lo spettro dei licenziamenti.